E' la ricetta di un allucinogeno usato a volte in guerra Perfetto Se lo spalmo sulle frecce potrebbe darmi un vantaggio contro la trinità Non ho abbastanza spazio Squadra Tau, Croft è diretta verso la vostra posizione Ripeto, Croft dritta verso di voi Cristo santo La prenderemo Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma di Agoni Passo e chiudo L'avete sentito, diamoci da fare Sarà molto Venti di cavallo Ah, Cristo Squadra Tau, Croft è diretta verso la vostra posizione Ripeto, Croft dritta verso di voi Cristo santo La prenderemo Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma di Agoni Passo e chiudo Oh, che cazzo sta male Ah, Cristo Squadra Tau Squadra Tau, Croft è diretta verso la vostra posizione Ripeto, Croft dritta verso di voi Cristo santo Cristo santo Serve aiuto Non mi prenderete Squadra Tau, Croft è diretta verso la vostra posizione Ripeto, Croft dritta verso di voi Ripeto, Croft dritta verso di voi Cristo santo La prenderemo Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma di Agoni Passo e chiudo L'avete sentito, diamoci da fare Non può sfuggirci, è impossibile Messo maluccio Ah, Cristo Squadra Tau, Croft è diretta verso la vostra posizione Ripeto, Croft dritta verso di voi Cristo santo La prenderemo Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma di Agoni Passo e chiudo L'avete sentito, diamoci da fare Ehi, pensi di farcela? Gatto! Non ci trovo La prendione Listo Non è certo morto di morte naturale